La guerra in Ucraina non mette a rischio per gli europei solo le forniture di gas, petrolio e grano. La crisi coinvolgerà anche l'olio di semi di girasole, uno tra gli ingredienti più presenti nei prodotti alimentari. Biscotti, maionese, creme spalmabili, sughi, fritture e pasta ripiena. Basti pensare che nel 2020-2021 l'Italia ha importato circa 298.000 tonnellate di olio di girasole, il 91% proveniva dall'Ucraina. Il mese in corso è quello della semina del girasole fiore del quale l'Ucraina è appunto il principale produttore al mondo. Il conflitto e la mancanza di fertilizzanti provenienti dalla Russia potrebbero fermare la semina e senza quest'ultima non ci sarà ovviamente un raccolto. È questione di settimane perché i paesi europei finiscano le proprie scorte di olio di semi di girasole, cosa che si rifletterà poi sui consumatori che si troveranno di fronte a scaffali vuoti nei supermercati. Grazie.